Questo senso che nessun essere umano dovrebbe vivere in uno spazio non consacrato è qualcosa di profondamente radicato in questa cultura, perché è come se pianti qualcosa in questa terra. Solo se le radici affondano in una terra ricca, il fiore e il frutto spunteranno. Se la terra in cui affondano queste radici non è abbastanza ricca, non è abbastanza potenziata per sostenere la vita, i fiori e i frutti non spunteranno, anche se spuntano saranno troppo miseri. Non sarà mai una fioritura piena, non sarà mai una fruttificazione piena della pianta. Quindi questi aspetti abbiamo sempre prestato, dato un'importanza enorme a questi aspetti della vita. Non è solo questione di cosa mangi, non è solo questione di che tipo di lavoro fai, in che tipo di spazio vivi. Questo è molto importante in Oriente. Quindi le persone hanno sempre consacrato le loro case, in qualunque modo che conoscono meglio. E solo dopo vi si sono trasferite. Se i re erano sensati e benevoli, consacravano l'intera città, creavano innumerevoli luoghi nella città affinché l'intera città fosse consacrata. Vuole che tutti vivano in spazi consacrati. Se cammini per strada, se fai affari, se vivi in quella città, ognuno deve vivere costantemente in uno spazio consacrato. Perché se vuoi produrre generazioni di esseri umani potenziati, hai bisogno di questo tipo di spazio. Altrimenti, solo per caso o per forza personale, qualcuno potrebbe diventare qualcosa. Non produrrai una generazione di belle persone. Questa cultura ha prodotto una galassia di conoscenza. Una galassia di esseri illuminati. Ogni generazione ha prodotto questo semplicemente perché si sono presi cura di innumerevoli aspetti come questo. In nessun altro posto su questo pianeta singole generazioni di persone si sono innalzate a dei livelli di conoscenza così gloriosi come ne ha conosciuti questa cultura. Ma tutto ciò si è fratturato negli ultimi secoli. Negli ultimi 800-900 anni. questo si è gravemente fratturato a causa delle invasioni e degli spostamenti di persone e di tante cose. Puoi produrre intelletti notevoli, energie notevoli, come esseri umani, sto dicendo. Singoli esseri umani portatore di un fenomenale senso di energia, intelletto e capacità se crei ampi spazi di spazio consacrato. Grandi spazi consacrati dove l'intera generazione di persone è in contatto con quel tipo di energia e spazio. Questa fortuna ce l'aveva quasi ogni famiglia che prima di trasferirsi nelle case facevano questo. Periodicamente facevano qualcosa per potenziare la casa. Questo faceva parte di quasi ogni casa. Ogni famiglia, almeno una volta, all'anno, conduceva i rituali e i processi necessari per far sì che lo spazio della casa fosse potenziato. Una comprensione di base o piuttosto una comprensione essenziale di come generare un'atmosfera favorevole affinché un essere umano possa raggiungere il suo pieno potenziale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.